Ben trovati all'ascolto da Alessia Ricci della redazione locale. Questa è una nuova puntata di 5 minuti con la BCC in collaborazione con la BCC Felsinea, come sempre. Oggi siamo in compagnia di Paolo Piacenti. Buongiorno Paolo, di che cosa ci parli questa settimana? Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei portare all'attenzione dei nostri ascoltatori una cosa un po' particolare. C'è una nuova modalità di truffa che si sta perpetrando in tutta Italia. È una truffa collegata agli acquisti effettuati, soprattutto online, perché ormai tante persone mettono in vendita oggetti anche di valore e questi truffaldini contattano il venditore dimostrandosi interessati all'acquisto. Di solito non insistono nemmeno per ottenere uno sconto e poi per quanto riguarda il pagamento chiedono di poter pagare con un assegno circolare che notoriamente è più sicuro del tradizionale assegno bancario. Bene Paolo, ormai che ci siamo però facci anche un minimo di lezione di tecnica bancaria spiegandoci la differenza tra questi due tipi di assegno. Certo, cercherò di farlo in maniera pratica. L'assegno bancario è il classico assegno che il titolare compila a favore dell'altra persona di una società e quindi può avere il pericolo di risultare cosiddetto non coperto, mentre l'assegno circolare non può essere messo a vuoto e può essere messo solo da banche autorizzate. In teoria quindi è un metodo di pagamento molto sicuro. Ecco, hai detto in teoria. Questo ci lascia a presumere che non sia sempre così. Ecco, quindi non dobbiamo più fidarci nemmeno di questi assegni? Ecco, sì. Infatti c'è il pericolo che sia falso e ti spiego il perché. I sistemi per difendersi ci sono, però bisogna saperli. La truffa che viene evidenziata in questi tempi è molto ben orchestrata e ha tratto in inganno anche il mondo bancario. Adesso provo a spiegare con un esempio pratico. Si presenta il cliente allo sportello della banca direttamente con l'acquirente. L'impiegato si rende disponibile quindi a telefonare alla banca dell'acquirente per verificare che l'assegno circolare sia buono. Quindi va su internet, cerca il numero di telefono della banca e chiama. Dall'altra parte risponde un operatore gentilmente che conferma la bontà dell'assegno, gli dice l'importo, il nome di chi lo ha emesso, eccetera. Tutto bene quindi. Però a questo punto il cliente quindi pensa di essere tranquillo. Versa l'assegno sul conto, consegna la bicicletta che ha venduto al compratore, il quale se ne fa molto felice. Peccato però che dopo alcuni giorni si scopre che in realtà l'assegno era falso perché la banca, quella vera a questo punto, ha mandato il messaggio di impagato dell'assegno. Quindi il cliente ci rimette i soldi, le spese e non ha più la sua bicicletta. Quindi Paolo com'è possibile che la banca al telefono avesse poi dato, avesse dato conferma della validità dell'assegno? Proprio perché la truffa è ben fatta. Cioè questi furfanti vanno anche a creare dei siti falsi con numeri di telefono falsi. Quindi il telefono che l'impiegato ha chiamato in realtà non era quello della banca ma era un telefono dove rispondeva un complice preparato che confermava il tutto. Questo è solo un esempio per far capire che si deve stare molto attenti anche noi banche naturalmente. Ma a questo punto di chi ci si deve fidare? Cioè come possiamo stare tranquilli se vogliamo ad esempio vendere un mobile o come hai detto tu hai fatto l'esempio della bicicletta ad un privato che però abita lontano? Ecco il mio consiglio è sempre il solito. Prima rivolgersi ai nostri sportelli, spiegare che tipo di operazione si vuole fare. Mi è capitato personalmente una domanda del genere e quindi ad alcuni clienti ho detto meglio lasciar perdere l'affare perché questa puzza e ti posso assicurare che è andata bene così. Io qui posso dire che il metodo più efficace oggi è senz'altro quello del bonifico urgente. Cosa succede? In un paio d'ore oggi tutti abbiamo l'onbanking col telefonino quindi facendo questa tipologia di bonifico in un paio d'ore se è tutto regolare i soldi sono sul conto corrente del beneficiario e si può tranquillamente concludere l'acquisto anche per importi elevati diciamo così. Quindi ecco questo è il metodo più sicuro però Paolo ci stai dicendo che è meglio non accettare più gli assegni? No non dico questo. Gli assegni sono e continueranno ad essere ancora un metodo di pagamento importante. Io dico qui che bisogna prestare molta attenzione e anche per gli assegni circolari è importante sapere che le banche non si possono più fidare del benestare telefonico per quello che ti ho detto prima. Gli assegni sono quindi da considerarsi pagati solo dopo che sono passati tre giorni lavorativi dal versamento in banca perché il messaggio di impagato può arrivare alla banca anche dopo questo periodo. Quindi non c'è modo lì per lì di essere sicuri al 100% che gli assegni sia bancari che circolari vadano a buon fine. Questa è una cosa molto molto importante da sapere e che volevo comunicare a tutti oggi. Paolo grazie allora per la tua spiegazione anche oggi abbiamo imparato qualcosa che può davvero essere molto utile soprattutto l'importanza di avvalersi sempre della consulenza di una banca di fiducia. In questo caso BCC Felsinea che anche attraverso questa rubrica ci dà sempre ottimi spunti di riflessione. Quindi Paolo grazie ancora per essere stato qua con noi. Buon lavoro alla prossima. Un saluto a tutti. Grazie. Era Paolo Piacenti di BCC Felsinea. Io vi saluto. Grazie per l'ascolto. Buon proseguimento su Radio Dimensione Musica. Ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di 5 minuti con la bici.